So che c'è una discarica e c'è un'altra discarica dove possiamo portare noi rifiuti più grandi, diciamo, che non vengono raccolti il giorno prefissato. Presumo di sì all'inceneritore qui nostro, la GEA. Spero in una discarica, però con precisione non lo so, mi fido insomma. No, questo non glielo so dire, dove lo portano loro? No, 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 c'è, nelle discariche. Qui non differenziati vanno, non so, sono sempre a San Vito, dove è la mia società. E quelli differenziati penso sempre a San Vito. Di preciso no. I differenziati dovrebbero finire in certi posti dove si ricicla. E quelli non differenziati dovrebbero andare nel inceneritore probabilmente, o di Aviano, o chissà, non so dove è proprio più preciso. Bella domanda. Si spera che vengano differenziati poi alla fine. Riciclati. Li raccolgono e poi penso che li mandano, beh l'umido io lo do a mio padre che fa il compost, penso. E gli altri vengono raccolti, vengono lavorati per il riciclo. Se poi a Portenone dove non lo so. Si, se credo e vanno a finire. Quelli non differenziati vanno a finire nelle discariche. Quelli differenziati vengono riutilizzati. Grazie. Grazie.